e ci siamo amici miei ciao bettex.it behemoth colosso il mostro siamo noi dice Cao Liang penultimo film in concorso alla mostra del cinema di venezia arriva un documentario che parte letterale ma diventa qualcosa di più grazie agli ultimi minuti splendide ammientati in una città fantasma behemoth di Cao Liang usa anche Dante Alighieri ci siamo un po' noi ci siamo un po' noi italiani perché perché è un film sfiancante nella visione soprattutto se vieni da tanti film quindi povero Cao Liang è stato difficile vedere il film ma mi ha molto gratificante nel dopo è un film che devo dire ha lavorato molto dentro di me dentro la mia testa e anche dentro il mio cuore perché siamo in un girone dannato dell'inferno all'inizio ci sono questi minatori nel sottosuolo della Mongolia che estraggono l'acciaio che lavorano in mezzo ai fumi in mezzo alla lava in mezzo al buio e in mezzo alla morte circondati dalla malattia infatti si ammaleranno poi a un certo punto Cao Liang che filma tutto a 4k con delle immagini devastanti ci fa vedere che sopra di loro c'è anche un'erba accesissima quasi lsd dove dei pastori portano le pecore e oltre quella realtà però lui poi arriva al grande colpo di scena finale l'acciaio l'acciaio estratto dal sottosuolo da questi minatori che poi lui fa vedere in una zona più purgatorio quando escono dall'inferno li fa vedere arrivare in queste casubole sulla terraferma lontanissime però dall'erba accesa verde dei pastori felici ci fa vedere che provano a pulirsi le unghie ma la sozzura, l'orrore, la sporcizia quasi Miyazakiana quel nero di Miyazaki che chi conosce Miyazaki sa che sono quelle masse di nero di inquinamento sappiamo che sentiamo attraverso le immagini di Cao Liang che sta penetrando nei corpi dei minatori allora loro provano a pulirsi e non ci riescono tanto bene e Cao Liang ci fa vedere che stanno male ma volete sapere quando stai veramente male? stai veramente male alla fine di Behemoth negli ultimi 20 minuti quando Cao Liang ci dice che è tutto senza senso che tutte queste morti, che tutta questa estrazione dell'acciaio è senza senso perché l'acciaio arriva a Orgos e Orgos è il nulla o meglio è una città psichedelica dai colori, dai cromatismi accesissimi, primari, fortissimi c'è giallo, c'è arancione, c'è verde, è una cosa inquietante ci sono dei grattacieli Art Deco, molto belli per chi ama il grattacielo Art Deco che negli Stati Uniti è uno stile diffusissimo loro lo chiamano Art Deco perché ovviamente mettono l'accento da un'altra parte e Orgos è veramente, dovrebbe risultare il paradiso ma in realtà è la diretta continuazione dell'inferno delle miniere che abbiamo visto all'inizio del film perché non c'è nessuno, perché non c'è nessuno e se non c'è nessuno in questa città, se non c'è vita perché ci dovrebbe essere la morte allora dei minatori? questa è la domanda che pone Cao Liang Orgos è una città della Mongolia dove c'è un distretto di Orgos Orgos è abitata, ma c'è questo distretto che fa parte comunque dell'agglomerato di Orgos Gosta, un Gosta, un andatevi a vedere le immagini perché sono incredibili anche su internet certo è che filmati dalla camera di Cao Liang sono ancora più spaventosi questi scenari metropolitani deserti dove arriva l'acciaio dei minatori che muoiono nel sottosuolo lontano dalla città fantasma devo dire che non sappiamo cosa potrebbe accadere a Behemoth che vuol dire colosso, che vuol dire mostro e il mostro siamo noi, dice Cao Liang alla fine che ci manca tanto alighieri c'è l'inferno, c'è il purgatorio e c'è questa sorta di paradiso che paradiso non è non sappiamo che sorte può avere questo film all'interno di una giuria e alla fine c'è il ringraziamento anche a tutte le famiglie di minatori è un film molto solidale, con loro è partito l'applauso sentiamo che queste persone stanno male davanti alla camera di Cao Liang e quindi potrebbe anche essere considerato ricattatorio come proposta audiovisiva all'interno di un festival di finzione sono cavoli della giuria presieduta da Alfonso Cuaron sappiamo certamente però che il documentario dai tempi di Fahrenheit, Nine Eleven con Quentin Tarantino che dice all'orecchio di Michael Moore hai vinto la Palma d'Oro a Cannes perché hai fatto un gran film non perché ti sta sulle palle George Bush quindi Tarantino con la sua solita gentilezza cinefila ricordava a Michael Moore in quel momento che aveva fatto un bel film sostanzialmente sappiamo bene che qui a Venezia ha vinto Sacro Gradi Gianfranco Rosi pochissimi anni fa quindi il documentario è forte e il documentario arriva molto molto potente e chissà che cosa può succedere in giuria a me veramente ho molto faticato a vedere Behemoth ma se l'avessi visto in un altro contesto senza aver passato 8 giorni prima, 9 giorni prima a vedere 4 film al giorno sicuramente avrei faticato di meno però è stata una visione devo dire molto molto gratificante per quanto mi riguarda e molto dolorosa e sofferente per i poveri minatori che si portano dentro la sporcizia dell'inferno di miniere che sostanzialmente Cao Liang ci dice che potrebbero non servire assolutamente a nulla ciao Betteist